Dare risposte significative alla domanda dei cittadini di un'edilizia residenziale sempre più adeguata a standard di qualità e procedere alla manutenzione e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare comunale. Questo il fine prefissato dall'amministrazione comunale di Arezzo che in serata lunedì ha incontrato i residenti delle case popolari della zona di Tortaia. L'intervento ammonta all'incirca 2 milioni che è l'importo che ha trovato il comune di Arezzo dal proprio bilancio. Quindi per la prima volta c'è uno stanziamento così importante dalla fiscalità generale del comune a favore di un'opera di manutenzione, risanamento, riqualificazione energetica delle case popolari. In questo caso verranno rifatte le coperture, quindi verrà rimesso in sicurezza il tetto, poi verrà fatto la coibentazione, quindi tutto quello che è l'intonaco dell'edificio e poi verranno installati degli impianti fotovoltaici e le illuminazioni per quanto riguarda la parte più pubblica. Inoltre verranno anche sostituiti a parte degli infissi esterni. Un lavoro importante, altrettanto importante l'incontro con la popolazione. Io mi interfaccio con la popolazione tutti i giorni. È la prima volta che un'amministrazione si mette in prima linea con un contributo così importante e questo sta a indicare che abbiamo a cuore sia il nostro patrimonio ERP sia i nostri concittadini a cui vogliamo garantire una qualità abitativa sopra gli standard nazionali.